Voglio farvi vedere il trailer però perché magari non sapete di che cazzo sto parlando La forma del male si chiama, al cinema dal 6 ottobre Insomma per chi va ancora al cinema, per chi va ancora al cinema dal 6 ottobre a Ching Allora vedo già delle osservazioni in chat e questo mi fa molto piacere perché ne parliamo Allora il film è, non si direbbe, non si direbbe, è un body horror Qualcuno non sa cosa siano i body horror, lo spieghiamo È un film diretto da Anna Bergholm, è finlandese, finlandese Infatti io ho visto il film in finlandese con i sottotitoli in inglese Insomma per fortuna il mio inglese diciamo zoppicante è riuscito comunque a capire il 95% di quello che c'era scritto C'è una famiglia del mulino bianco Qualcuno ha scritto, sembra la fotografia della pubblicità del mulino bianco Sì c'è una fotografia del mulino bianco, non proprio del mulino bianco Perché la fotografia del mulino bianco ha anche l'aggiunta diciamo di questo glow Di questa luce, come se fosse una luce divina che rende immacolata la famiglia Però sì, io penso però che rappresenti questa famiglia Cioè rappresenti anche un po' quello, un po' anche una tipologia di famiglie finlandesi Nel senso che comunque io ci ho visto anche la rappresentazione di qualcosa di reale Non solo qualcosa di finto Allo stesso tempo ho avuto anche delle reminescenze di Edward Mani di forbice Cioè di una società, una micro società Quindi un paese dove hanno tutta la casettina bianca pulita, tutti uguali La macchinina parcheggiata, tutti uguali Ecco anche in questo ambito, in questo film Sembra proprio quella la cosa che si vuole rappresentare Quindi la perfezione e la perfezione anche all'interno della famiglia Quindi c'è un padre, una madre, un fratellino e una bambina in età preadolescenziale Quindi l'età in cui proprio c'è un grande cambiamento Dall'età bambina all'età ragazza, insomma ragazzina È molto importante per le donne quel momento lì Quindi è molto chiave anche questo tipo di dettaglio all'interno della storia Vedete nel trailer che la marmocchia trova un uovo e lo conserva Io non vi spoilererò nulla, però qualcosa l'avete già capito Avete visto che c'è una creatura All'interno di questa famiglia c'è anche una madre Che è una... un influencer Insomma lei ha un'attività Per cui passa le sue giornate a fare video, stories In cui pretende che la famiglia sia sempre bella, brava, in posa Oh godono come un riccio cazzo Grazie mille Giorgio Quindi caga un po' il cazzo a tutti Scusate ci sono le notifiche E quando ci sono le notifiche io non riesco a parlare Oh gododuro Grazie Cronenberg Sbam, ciao Alca Benvenuto alla festa Cazzo grande, benvenuto Allora Purtroppo il trailer spoilerà Spoilerà e quindi cercate di rimuoverlo dalla testa Ha una bellissima fotografia Purtroppo io ho visto un link che veramente era sgranatissimo Quindi vedendo il trailer dico Cazzo mi sono veramente perso un aspetto importantissimo di questo film Cioè è girato bene, ha una bella fotografia È strano, è particolare Perché non vuole essere un film realistico a tutti i costi Anzi vuole essere una fiaba Una vera fiaba dark E per questo che anche in parte mi ha ricordato Tim Burton Non che abbia lo stesso stile di Tim Burton Però la volontà è quella Cioè creare un mondo fittizio Un mondo tra la fiaba e la realtà È un tipo di equilibrio che è stato trovato piuttosto bene in questo film La storia è molto semplice La figlia, questa ragazzina che avete visto nel trailer Fa danza, è una brava bambina, non fa niente di male Insomma Però a quanto pare alla madre Non va mai bene un cazzo di quello che fa È sempre scontenta E la bambina soffre tantissimo Soffre della mancanza di amore Ed è un tema bellissimo Perché io penso che riguardi l'80-90% delle persone nel mondo Perché spesso questa cosa accade anche quando l'amore c'è Ciao Eva Moody Benvenuta Anche quando l'amore c'è Noi siamo incapaci di darlo Quando siamo genitori Siamo incapaci di darlo E siamo nervosi Siamo arrabbiati Abbiamo mille cazzi Quindi non riusciamo a dare amore ai nostri figli Ciao Grazie Stefano Grazie Sti cazzi E alca minchia E alca la butta dentro di testa Alla fine di tutto Cazzo Dopo che tutti hanno lavorato duro Tutta la squadra ha lavorato duro Allora Al di là del fatto che appunto Si fatica a trasmettere amore A dare amore Come lo vorrebbe l'altra persona Perché manca comunicazione Qui abbiamo un altro problema Secondo me In questo film Dove veramente manca proprio l'amore di questa madre Ed è un po' anche quello che racconta la regista Nell'intervista che ha fatto con Ornella È questo l'orrore Lei ha detto una cosa Adesso non mi ricordo la frase Perché in inglese figuriamoci Ha detto Cosa c'è di più horror Che essere una ragazzina Una bambina E non avere l'amore Della propria madre Essere privati dell'amore Della propria madre Quindi Recensione fatta finita È questo il tema del film No ci sono anche altre cose da dire È questo il tema del film L'horror è l'assenza di amore E per questo io dico Basta rompere i coglioni Su che cosa è horror Cosa non è horror Ragazzi l'horror è tutto È ovunque Mancanza di amore Da parte della madre È horror Fine E lei Rende in metafora Questa cosa La ragazzina non va bene E allora Nasce All'interno dell'uovo Non ve lo sto spoilerando È una metafora Una seconda identità Della ragazzina È una metafora E non ve lo sto spoilerando Una seconda identità Lei non va bene Non si sente che non va bene così Perché la madre non la ama così E allora Metaforicamente L'uovo rappresenta La sua seconda nascita L'uovo crescerà E uscirà una creatura Anche orribile Da quest'uovo Orribile esteticamente Non fisica Non interiormente E quindi rappresenta questo Rappresenta questo Il film è carino Allora a me non ha fatto impazzire Però Penso che sia un film molto intelligente Che Al cinema Spacca Possa spaccare Perché comunque Ha una bella fotografia Non so come è stato doppiato Io l'ho visto in finlandese Ragazzi È molto strano Il finlandese Da sentire Ebo di horror Perché ci saranno Delle cose Delle mutazioni Diciamo Del corpo E Non è un film Che fa paura È un film Che inquieta Inquieta Disgusta Vi farà provare pena Sentimenti comunque Di solidarietà Di amore Nei confronti Di questa Bambina Che poveretta Soffre questa cosa qua Lo trovo anche un film Molto Molto al femminile Nel senso che Non femminista Non c'entra un cazzo Non femminista Non parla di diritti Delle donne Perché a me piacciono i film Che parlano di queste cose Però in questo caso Lo trovo femminile Nel senso che È veramente Una storia al femminile Proprio vista da quel lato lì La regista è una donna I protagonisti sono Lei Sua madre Sono i protagonisti principali Poi c'è La creatura Che è una femmina Anche lei E c'è Padre e fratello Che sono molto marginali Quindi è una storia Molto al femminile Poi vi ho detto È un Io penso che Adesso non vorrei parlare Per Non sono rappresentante Del genere femminile Però magari se c'è qualcuno Qua in chat Di femmina Me lo confermerà L'età in cui Passi dall'essere una bambina A essere una donna È molto Più Non voglio Vi verrebbe a dire Traumatizzante No? Però La si percepisce di più Quando sei una femmina Perché C'è un cambio fisico Un cambio Fisico interno Esterno Invece l'uomo Fa un po' fatica A Staccarsi Dalla sua identità Di bambino Forse addirittura Non si stacca mai In alcuni casi Zero proprio Mentre le donne Invece Secondo me Anche quando arrivano A 50 anni Se lo ricordano ancora Quando sono passate da Sentirsi delle bambine Sentirsi delle Diciamo Giovani Ragazzine Donne Quindi è È un film molto Anche su quello Su quella Su quella cosa lì Mi è piaciuto anche Un tema Che è un sottotema Che c'è all'interno Che è la bruttezza esteriore Che diventa un limite Per l'amore No? In questo caso Non c'è limite Perché La creatura Riceverà amore Dalla bambina Indipendentemente Dalla sua Dalla sua Dal suo aspetto orribile Ma veramente disgustoso È veramente È anche grottesco Questo essere È grottesco È disgustoso È viscido Fa anche dei rumori Fastidiosi È veramente una roba Inamabile Però a modo suo Riesce a essere comunque Amabile Perché anche Come è stato creato Ha degli occhi particolari Molto Molto dolci Quindi C'è questa cosa Per cui lei Che è una ragazzina Molto bella Molto brava Molto tranquilla Insomma Che vorresti solo Abbracciarla E basta Non riceve amore Però al contempo Lei Alla sua creatura Al suo uovo Quando nasce Gli darà amore incondizionato Quindi mi è piaciuta Questa cosa qua L'amore Il vero amore poi Il vero amore Del genitore È proprio quello Cioè Se anche tu avessi Certo Non è bello Non è facile Da superare Però un figlio Con deformità Comunque poi Lo ami Perdutamente Perdutamente Lo ami Non le vedi neanche Le deformità Le problematiche No Quindi con questo aspetto qua Molto figo Secondo me Se qualcuno di voi Andrà a vederlo al cinema Mi raccomando Fate una bella stories Taggate me E taggate Adler Entertainment Adler Entertainment